Pericolosità della loro propaganda, ossessione per gli attentati di natura suprematista, fastidio per gli immigrati, nonché avversione per gli ebrei, sono gli elementi emersi a carico di due minorenni internauti per i quali i tribunali di Salerno e Torino hanno disposto le misure cautelari della permanenza in casa. Si tratta di uno sviluppo dell'indagine relativa alla vasta operazione internazionale di polizia che il 9 novembre 2023 ha permesso di smantellare un network di internauti attivo in almeno sei paesi europei e pronti a commettere atti violenti. Nel network venivano diffusi contenuti antisemiti e xenofobi. I due minori destinatari delle misure erano stati sottoposti a perquisizione, erano transitati inizialmente all'interno del network e in seguito fuoriusciti per aderire a un gruppo Telegram di medesima matrice.